Che meraviglia, tutti ben vestiti, a tutti i bei, mia vera, tutti i bei, che benessa. E' di Tapu, Catagorda, Palmondo, programma Tagliare la Voce del Core, in cui in questa bella domenica, giorno 3 di aprile di 2011, registra la presenza del sindaco della comune di Lopolis, Volmar Badisarelli, della comune di...